Questi cinque anni nessuno aveva mai cercato Margherita, in Polonia i familiari erano convinti che si trovasse, che vivesse in Italia ai margini della società e ai conoscenti ed amici invece italiani faceva comodo credere ciò che aveva detto il suo assassino, cioè che era rientrata in Polonia. Un'indagine difficile perché bisognava ricostruire ciò che era venuto cinque anni prima in un ambiente particolare con persone ovviamente problematiche. Li chiamano cold case per definire un omicidio irrisolto. Rientra in questa categoria il caso sul quale ha fatto luce il gruppo di lavoro composto da squadra mobile sezione reati contro la persona e l'unità delitti insoluti con il personale del servizio centrale operativo e del servizio di polizia scientifica della direzione centrale anticrimine. Sette anni di indagini che hanno portato questa mattina all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte dei poliziotti della squadra mobile della questura di Bari nei confronti di Ignazio Piumelli, pregiudicato di 53 anni. E' lui, secondo gli investigatori, il responsabile dell'uccisione di una cittadina polacca, Malgorata Schlezak, detta Margherita, di 50 anni, il cui cadavere completamente scheletrico fu ritrovato all'ultimo piano di un edificio in disuso nell'ex acceglierie scianatico di Bari. Era il 10 maggio del 2017 e dall'omicidio, sul quale si è fatta luce oggi, erano trascorsi 5 anni. I risultati di genetica forense e la comparazione con il campione biologico estratto da un tampone eseguito sulla donna a seguito di una violenza sessuale subita il 24 maggio del 2009 hanno confermato che quello scheletro fosse di Margherita, morta, come hanno accertato gli esami, a causa di uno shock traumatico ad alta componente emorragica nel corso e a causa di una violenta ed efferrata aggressione. Tra i tanti pezzi di questo complicato mosaico ricostruito dagli investigatori, ci sono anche le scritte ritrovate sulle porte d'ingresso delle stanze al secondo piano di quell'immobile in disuso e alcune testimonianze di chi sapeva di quel rapporto tra Piumelli e Margherita fatto di violenze, vessazioni e di un isolamento totale della donna, la cui scomparsa era stata giustificata dal 53enne con il ritorno di Margherita in Polonia. Dichiarazioni sconfessate dai fatti e da alcune intercettazioni ambientali nelle quali gli investigatori hanno scoperto che Piumelli aveva bruciato gli abiti della sua compagna per cancellare le prove a suo carico. Gli elementi probatori invece lo hanno inchiodato dopo sette anni. Per lui le accuse, oltre a quelle di omicidio, sono di riduzione in schiavitù, occultamento e viripendio di cadavere.